La grande box sbarca a Brindisi, nella città adriatica una a due giorni dedicata alla grande tradizione pugilistica della palestra a rodio, con la presenza di Antonio De Vitis, pugile professionista brindisino, campione intercontinentale in carica, pronto a disputare l'incontro di preparazione alla prossima difesa del titolo dopo un anno di attività agonistica speso a preparare il match per il titolo europeo e quello intercontinentale, vinto proprio 20 giorni fa. Sul ring a sfidare De Vitis il professionista ungherese Xabatot, a fare da cornice otto incontri dilettantistici tra le rappresentative d'Italia e Romania, tra le file italiane altri quattro pugili brindisini, si replica il 29 luglio presso Lido Giancola con altri incontri dilettantistici. Combattere poi a brindisi davanti a tutto il pubblico amico questa volta, che è andare sempre fuori, avere oltre al pugile anche tutti i ragazzi contro, però va bene lì sopra si è in due, però diciamo che quando combatti in casa con tutto il pubblico e il calore è più bello. Combatti contro un ragazzo ungherese, la preparazione a questo match come la vedi? Ma diciamo come preparazione ho vinto il titolo neanche 20 giorni fa, domani 20 giorni, il 7 luglio, perciò la preparazione ormai era già dentro, perciò abbiamo solo mantenuto il peso e tenuta la preparazione. Io rappresento oggi l'ultima generazione di tecnici sportivi della pugilistica rodeo, con i quali collabora anche Lino Mazza e Fabio Pignadaro e diciamo sono cresciuto in questa palestra che ha una lunga storia, la storia nasce nel 1938 quando è stata fondata e dopo una serie di campioni oggi abbiamo Antonio De Vitis, l'ultimo diciamo baluardo di questa società che ha conquistato già questo quinto titolo, il titolo intercontinentale, speriamo in futuro ci sia un'altra possibilità ancora come un mondiale o un titolo europeo, una rivincita per il titolo europeo. Naturalmente Antonio si è allenato al meglio in questo periodo perché aveva appunto questo impegno per il titolo intercontinentale, oggi ha mantenuto una forma tranquilla, perfetta per affrontare questo match a Brindisi che non sarà altro che un match di rodaggio e preparazione alla prossima difesa del titolo intercontinentale. Facciamo un in bocca al Lupantonio e ci vediamo domani 27 in piazza Legno Flacco.